Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca, a Caltanissetta sono ben 19 i provvedimenti adottati dal questore nei confronti di altrettanti soggetti accusati di vari reati, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il questore della provincia di Caltanissetta ha emesso 19 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di condotte illecite e antisociali nel territorio nisseno, nei confronti di due persone di nazionalità rumena sono stati emessi provvedimenti di foglio di via obbligatorio poiché denunciati dagli agenti delle volanti per resistenza pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Analoghi provvedimenti sono stati emessi nei confronti di tre pregiudicati della provincia di Catania, due arrestati dai poliziotti di Niscemi per il reato di rapina e lesioni personali e uno arrestato dai carabinieri di Gela per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Tutti i soggetti non potranno fare ritorno nei comuni dove sono stati commessi gli illeciti per un periodo da due a tre anni. Il questore ha emesso anche cinque provvedimenti di avviso orale nei confronti di pregiudicati ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono invece otto i provvedimenti di ammonimento per violenza domestica o stalking emessi a seguito di istruttoria della divisione Polizia Anticrimine della Questura nei confronti di persone che hanno posto in essere condotte violente, con minacce e lesioni o atti persecutori nei confronti delle loro convimenti o ex compagne. Infine è stato emesso un provvedimento di daspo urbano nei confronti di un nisseno di 22 anni tratto in arresto per minaccia e violenza pubblico ufficiale. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel messinese, parliamo del consorzio Rete Fognante che serve i comuni consorziati Taormina, Giardini Naxos, Letoiani e Castelmola. Ebbene dal consorzio è arrivata una richiesta ufficiale, servono 6 milioni di euro per realizzare il cosiddetto pennello a mare, un servizio certamente importante in vista poi della stagione estiva 2025. Mauro Romano ne ha parlato con il presidente del consorzio Alfredo Eliamandri. Sentiamolo. Il presidente del consorzio per la Rete Fognante Alfredo Eliamandri. Una richiesta importante è stata effettuata ai quattro comuni consorziati Taormina, Giardini Naxos, Letoiani e Castelmola. A cosa si riferisce una nota che è stata inviata da lei? Ma la nota che è stata inviata oggi si riferisce sostanzialmente a quello che è il progetto del pennello a mare, la famosa condotta emissaria sottomarina, di cui non avevamo traccia. Al nostro insediamento, dopo varie ricerche, abbiamo in realtà riscontrato un contenzioso con dei professionisti di Catania. Quindi è stata mia cura richiedere loro copie di questo progetto perché agli atti degli uffici non è stato rinvenuto. Ed oggi ci ritroviamo con un progetto che è aggiornato al 2019 a un costo orientativo di 6 milioni di euro. Non essendovi una traccia di finanziamento pubblico, mio malgrado sono costetto a chiedere le risorse economiche ai comuni per far fronte a una progettazione fondamentale per il nostro impianto. Perché ricordo che il nostro impianto di Giardini Naxos dal 2003 è monco di questa struttura e quindi scarica i propri repi, i pugnari depurati all'interno del Fiume Alcantana. Non esiste dunque un finanziamento, lei ha detto. Quindi i comuni sono disponibili a finanziare questo progetto che è determinante perché si rischia la chiusura dell'impianto di Pietra Nera. Ma le alternative sono due. O si trova una linea di finanziamento e ad oggi non vi è una linea di finanziamento attiva per queste opere oppure i comuni, che sono i soci partecipanti al consorzio, finanziano in proprio l'opera. Altre strade io francamente non ne trovo, altrimenti seriamente rischiamo di non poter affrontare la prossima stagione estiva con l'impianto aperto. Un emendamento mette a rischio la sicurezza degli ascensori raddoppiano infatti i tempi di verifica degli impianti il tutto quando in Sicilia, nei giorni scorsi, è avvenuto un incidente molto grave dunque si tratta di un tema assolutamente di attualità. Vediamo il servizio. Una proposta insensata che mette a rischio la sicurezza di milioni di utenti. Salvatore Nasca, presidente del Consorzio per l'Italia l'associazione, che raggruppa oltre un centinaio di piccole e medie imprese operanti nel mondo degli ascensori, commenta così un emendamento alla legge di bilancio che raddoppia i tempi di verifica negli impianti dimezzando di fatto le attività obbligatorie in materia di sicurezza sugli ascensori. In un paese in cui la società e le istituzioni fanno faticosamente fronte ogni giorno per innalzare gli standard di sicurezza sia per lavoratori che per l'utenza appare totalmente insensata l'idea di allargare le maglie della sicurezza in un settore già critico di suo, aggiunge Nasca, ricordando l'incidente avvenuto nei giorni scorsi a Palermo quando il cedimento di un montacarichi privo di qualsiasi standard di sicurezza ha causato il ferimento di quattro persone. Il presidente del Consorzio per l'Italia sottolinea che con oltre un milione di ascensori e 70 milioni di corse al giorno l'Italia ha il parco impianti più vecchio al mondo alcuni dei quali addirittura risalenti a inizio del secolo scorso. L'ascensore, osserva Nasca, è il mezzo di trasporto più diffuso e usato nel nostro paese eppure una certa politica propone l'abbassamento drastico degli standard di sicurezza per un paio di euro all'anno a famiglia. Una verifica ispettiva di terza parte, da parte di ingegneri verificatori, che oggi costa un condominio circa 100 euro ogni due anni, viene proposto di alzarne la periodicità a tre, mentre per le verifiche fatte dal manutentore si passerebbe da un obbligo almeno semestrale a uno annuale, per non parlare dei montacarichi con una verifica di sicurezza ogni due anni. Tutto questo, conclude l'imprenditore, in un paese in perenne procedura di infrazione rispetto alla raccomandazione della Commissione Europea, con la quale l'Europa chiede agli Stati membri di mettere in atto politiche strutturali per l'adeguamento degli standard di sicurezza degli ascensori, cosa che praticamente tutti, tranne l'Italia, hanno fatto. Si è tenuto in Sicilia in questi giorni il 58esimo convegno nazionale dei rettori dei santuari. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Si è tenuto nella Sicilia orientale il 58esimo convegno nazionale dei rettori e operatori dei santuari, che ha avuto come tema centrale il carisma dei santuari di fronte alle sfide di oggi nell'evangelizzazione. Numerosi gli stimoli che i prestigiosi relatori hanno offerto ai presenti, rendendo il momento d'incontro una vera e propria fucina di idee e pratiche nuove che hanno mirato alla riscoperta del carisma dei santuari. Particolare spazio è stato dato ai relatori provenienti dalle facoltà teologiche del Sud Italia, che hanno dibattuto sulla sfida contemporanea dell'integrare la celebrazione del Giubileo nelle nuove missioni di evangelizzazione. Un'occasione, come ricordato nei vari interventi, per riflettere sul ruolo dei santuari nella diffusione del messaggio cristiano alla luce di un momento storico che offre numerosi spunti, partendo anche dalle sfide della secolarizzazione e dei cambiamenti sociali e culturali. Tra i luoghi meta degli incontri, anche la parrocchia Immacolata Concezione di Cannizzaro, retta da Don Venerando Licciardello. La parrocchia, dedicata alla Vergine Maria, celebra un anno mariano ricco di eventi spirituali per il centosettantesimo anniversario del dogma e il settantesimo del simulacro mariano. E sono delle ricchezze e dei presidi della fede del nostro popolo in un tempo in cui la fede è messa a dura prova. Le tradizioni non sono soltanto fatti emotivi, portano in sé delle profondità spirituali, storiche, culturali e dunque ci riguardano come persone e come popolo. Dobbiamo tenerle care, in qualche maniera approfondirne il significato teologico, il significato ecclesiale, adattare le comprensioni anche alla cultura del nostro tempo, però sono importanti e non possiamo sbarazzarcene. Parliamo adesso dell'olio extravergine di oliva e dei tanti suoi benefici, ma purtroppo tanti italiani non ne sono a conoscenza. Il 46% degli italiani non conosce i dettagli relativi ai benefici dell'olio extravergine, tanto che il 35% ne utilizza meno di due cucchiai al giorno, quando gli esperti, invece, consigliano di impiegarne almeno 3-4. E quanto rileva un'indagine dell'Istituto Nutrizionale Carapelli, Fondazione ETS, diffusa all'Università degli Studi di Milano, in concomitanza con la presentazione dello studio Effetti benefici dell'olio extravergine di oliva, meccanismi molecolari coinvolti, fatta durante la conferenza Olio d'oliva quando la scienza è da servire a tavola. Con la presentazione è emerso che le diete arricchite con olio Evo ad alto contenuto di polifenoli si associano a un profilo metabolico più sano. L'incontro ha previsto una tavola rotonda di studiosi e istituzioni, dalla quale è emerso con forza l'esigenza di una maggiore informazione per i consumatori, attraverso una divulgazione più integrata, basata sulla scienza, a partire dall'etichettatura, l'educazione alimentare nelle scuole, fino alla formazione dei medici di base. I risultati della nostra ricerca, ha dichiarato il responsabile il professor Enzo Nisoli dell'Università degli Studi di Milano, oltre a essere significativi di per sé, costituiranno una base per avviare nuove indagini e giungere a nuove fondamentali scoperte, che potranno certamente espandere le nostre conoscenze sui benefici di una adesione sempre più diffusa e corretta alla dieta mediterranea, per la prevenzione delle malattie legate all'invecchiamento e all'obesità. Parliamo ancora di benessere, in questo caso benessere psicofisico dei più piccoli, certamente molto molto importante, allora vediamo alcuni consigli, un vero e proprio decalogo dei pediatri. L'incremento di ansia e depressione tra i più piccoli contribuisce all'aumento dei disturbi gastrointestinali legati alla complessa interazione tra cervello e intestino. Dai rigurgiti nei lattanti fino alla stipsi funzionale e al colon irritabile nei bambini più grandi rappresentano oltre il 50% delle visite di gastroenterologia pediatrica. Si stima che tali problematiche riguardino oltre il 5% della popolazione pediatrica nei paesi dell'area mediterranea è che un bambino su 4 soffra di depressione e uno su 5 presenti disturbi d'ansia. È fondamentale comprendere l'impatto che le emozioni e lo stress possono avere sul benessere fisico dei bambini. Il nostro obiettivo è supportare le famiglie nella gestione serena di questi disturbi promuovendo un approccio di cura centrato sulla salute psicofisica, spiega Anna Maria Staiano, presidente SIP. Tra i suggerimenti dei pediatri per il benessere dell'asse intestino-cervello nei bambini, un'alimentazione è corretta a partire dai primi mille giorni di vita. Occorre cautela con le tisane dolci per alleviare le coliche o i disturbi del sonno, poiché il gusto dolce può portare a una dipendenza precoce creando le premesse per lo sviluppo dell'obesità. Inoltre è sconsigliato sostituire il latte con bevande alternative poiché questi cambiamenti non forniscono soluzioni adeguate e rischiano di compromettere la crescita del bambino. Evitare anche le diete di eliminazione adottate senza guida professionale se protratte possono infatti causare squilibri nutrizionali compromettendo peso, statura e sviluppo generale. Inoltre è fondamentale leggere le etichette degli alimenti. Molti snack apparentemente salutari contengono additivi e sostanze che possono avere risvolti negativi sulla salute del bambino. Accanto alle cure tradizionali stanno emergendo anche approcci alternativi nella gestione di questi disturbi. Le recenti linee guida della Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica includono la terapia cognitivo-comportamentale e l'ipnoterapia focalizzata sull'intestino. Entrambe volte a insegnare ai giovani pazienti la gestione delle emozioni e della percezione del dolore. Anche tecniche come lo yoga e l'erliassamento di Benson sono oggi considerate complementari alle terapie comportamentali tradizionali. Insegnano infatti al bambino a rilassarsi e a gestire in modo più sereno i sintomi dello stress. E prima di chiudere come di consueto la rubrica 100 secondi a cura di Giacomo Cagnes. Oggi si parla di caroboli, questione che in Sicilia si ripropone puntualmente con l'avvicinarsi delle festività. Quando si arriva in prossimità di periodi vacanzieri la Sicilia paga il suo scotto. Tutto aumenta a dismisura. Solo pochi baciati dalla fortuna possono infischiarsene per esempio del caroboli. Le compagnie aeree raddoppiano e triplicano i propri affari e i polli da spennare sono sempre gli stessi. Siciliani costretti se impossibilitati a fermarsi a casa a pagare cifre assurde. Le strategie adottate anche da questo governo regionale non vanno nella giusta direzione. Le cifre messe a disposizione per un presunto abbattimento delle tariffe non funzionano. L'unica soluzione per evitare questa forma di estorsione alle genti siciliane è imporre una tariffa fissa congrua tutto l'anno a prescindere dalle festività con i suoi aeroporti siciliani e le destinazioni per tutta Italia. Le compagnie aeree devono trovare un accordo con il governo isolano per fissare dei paletti essenziali. La Sardegna con gli stessi problemi è riuscita ad avere una tariffa fissa di 65 euro per raggiungere Roma. Alcuni politici si stanno battendo affinché la soluzione di un costante problema possa essere limitato. Italia Viva per esempio propone una gara con un accordo con le compagnie aeree per voli diretti andate e ritorno che colleghino Roma e Milano con Palermo, Catania ma anche Trapani e Comiso lasciando alle compagnie che partecipano alla fattibilità la possibilità di ampliare il numero e la frequenza delle rotte collegate con i quattro aeroporti siciliani. e la frequenza di amico di amico di amico Grazie a tutti.